E bello a tutti ragazzi e benvenuti quanti in questo nuovissimo video Oggi però non sbatto nulla sulla scrivania perché mi dà fastidio essere comunque ripetitiva Ma pensavate, ma pensavate Oggi siamo su Fortnite nella modalità senza costruzioni, quindi siamo in pubblica E abbiamo giocato per la primissima volta insieme a mio carissimo amico Mauro Che molti lo conosceranno come mezzogiorno, giocavamo insieme su GTA Rollplay Porca troia E ragazzi, lui non ha mai giocato a Fortnite, non l'ha mai provato neanche per una season o neanche mai fatto una partita Questa è la sua prima volta e abbiamo giocato insieme Abbiamo fatto due partite e le abbiamo vinte tutte e due consecutivamente La prima partita purtroppo non l'ho potuta registrare perché mi sono dimenticata Ma vi metterò comunque un piccolo spezzone di quando abbiamo vinto il game E ovviamente gli ho fatto vincere l'ombrellino della vittoria della season Perché non aveva appunto mai 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 giocato Occhio E la vinciamo Mauri, la vinciamo Andiamo Andiamo, è la prima andata Prima win? È la prima win che fai? Eh sì Ah, quindi è sbloccata anche l'ombrellina adesso Ma poi il game che oggi andrete a vedere è un game veramente bomba Perché abbiamo fatto 20 kill di squadra di cui 17 mie E abbiamo fatto una partita insieme molto 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 bella e molto divertente Dove comunque cercavo di dargli anche una mano nel capire che armi prendere, che armi non prendere, che tipo di cuore utilizzare, che tipo... Insomma, tutto quello che occorre sapere diciamo di Fortnite visto che comunque è la sua primissima volta Quindi ragazzi, prima di cominciare, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, spolliciate questo video se non l'avete ancora fatto E mi raccomando ragazzi, vi ricordo che mi trovate in live tutti i giorni dalle 16 in poi sul mio canale Viola Cosa? Non sapete dove sono? Sono sempre in live ragazzi, il canale lo trovate qui sotto in descrizione Ma ora ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e passiamo subito al gameplay Una buona visione Dove andiamo? Io vado sempre a palazzone, sì Ok, c'è gente sotto Faccio un poppa E one shot? Ok, ma... No, è caro armato ancora Morto uno nel caro armato Morti tutti nel caro armato Ok Mi sento, mi sento proprio il passo della Nutella One shot Ok Riesci a farmi un favore? Ah no, c'è la macchina Bravissimo Morto anche l'altro, morto anche l'altro Sento che sta mangiando qualcosa, tipo sento zium zium, capito? Cosa senti? Ah no, è qua sotto Arrivo Morto Zium zium Eccolo Era di qua Era di qua, mi sa Di verità Ecco, ecco sì E ne cae Giustamente dov'è che va nel caro armato Morto? Salgo nel caro armato Scudini C'è ancora un player, eh Vedo di farmelo comunque Morto C'era un lama, raga, vero? L'ho sentito, sono sicura Era un lama? Sì Senti, tipo sto verso, tipo Eh, quelli sono i lama Sì Eccolo lì, guarda Senti che fa Hai cure per caso? Eh, scudini Ok, no, tranquillo Bravissimo, bravissimo Ho terrato uno Copriti, copriti, non copriti Se vuoi un one shot Curati con calma Fermo Morto Io mi sto profumando nel frattempo Un po' di profumo E quindi è carino Ti sta piacendo per essere la prima volta che ci giochi? Sì, molto figo Ti dico la verità Allora, secondo me è di quei giochi belli Che puoi giocare in compagnia Altrimenti non rende Sì, sì, sono d'accordo In compagnia è molto più bello Cioè, ci sta alla fine, capito? Per cambiare anche un po' Però la verità, mi sta piacendo Venga questo Sì, no, piccante come ho detto anch'io Cioè, comunque dopo quattro anni Ormai le persone Costituiscono veramente palazzo intero In un secondo Quindi anche un giocatore nuovo Che vuole giocare Non può Perché Cioè, non può proprio competere Eccoli lì Bravissimo Noccato 28, 28 Visto, visto, visto Ma se mi Tipo se mi crauccio Bianchissimo 28 Bianco Morto Forse Non voglio dire una cavallata Forse ce n'è un altro Forse sono tutti morti Invece, sai Sì Tutti morti Vuoto? No, vedo un carro armato Non mi piace No, come un carro armato Eh, sì Verso nord-est Ah, un altro carro armato pure a destra Siamo tipo a panino Eh, questo è vicinissimo Oh, cazzo Eh, dobbiamo farcelo Questo carro armato Questo a destra, quindi? Questo qui? Sì Sceso uno Morto Spacchiamo la roccia E lui è morto Fidati È morto No, il carro armato da me No, 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 no Aspettami C'è un altro carro armato fa sinistra Morto 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 uno Ok, arrivo Devo, io lo push Si sta arrivando Sì, si vai, tranquilo Anche se sono da sola Morto uno Ma che cazzo Perfetto Tutti morti Ah, tre Ok, c'è un altro team da due E poi un play in solo E poi basta, siamo noi Ah, eccolo lì sopra Distrutto No, cado Mamma mia Andiamo Ma i piccioni, gli uccelli cosa mi segnalano? Nulla, lasciali stare Dovremmo chiamare un'altra di supporto Morto uno Morto due due Ok, manca l'ultimo player Spero di non essere colpito Perché sono veramente one shot Mi servirebbero le Vieni Le tue splashina Avete già fatto una win Sì, sì, il primo game l'abbiamo vinto Per forza, c'è Mezzo viper Cosa pretendete? Non ci scappava nessuno, nero Dove? Ma che cazzo siamo su lol Ah, lo vedi? È qui Ok, è l'ultimo player, Mauro Questa è una sfida per te Te la devi ammazzare tu Tutto tuo Attenzione, ragazzi Lo vedo carico Lo vedo carico il Mauri È incazzatissimo, ragazzi È incazzatissimo È incazzatissimo Incazzatissimo Vai, Mauro Vai, Mauro Vai, vai, sociali Che bambinetto L'ho sfondato con il termico da vicino Ma tu basta Che bambinetto, ragazzi Eh, questo era una sfida per lui Doveva ammassarselo lui Tango E stiamo a due vittorie, signori Due vittorie, ragazzi Due vittorie Ed è la prima volta Sì, è la prima volta che Mauro Di gioca a Fortnite Primissima volta Primissima volta È tipo il quinto game che fa Io saluterei i bambini Che ci guardano da casa Bene, ragazzi Siamo giunti alla fine di questo video Io spero che vi sia piaciuto E se così dovesse essere Mi raccomando, ragazzi Come sempre per supportarmi Lasciate un bel pollicione in su E fatemi sapere qui sotto nei commenti Se anche a voi piace La modalità senza costruzioni Oppure no Fatemelo sapere E vi ricordo, ragazzi Che se non siete ancora iscritti al canale Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto E so che molti di voi Purtroppo ancora non l'hanno fatto Quindi fatelo adesso Che è il momento più giusto Ma adesso, ragazzi Il video è terminato Dalla vostra Coratomist È tutto Noi ci becchiamo in un prossimo video Bella a tutti, ragazzi